Ciao a tutti da Vittorio, nel video di ieri abbiamo parlato degli abbonamenti che stanno andando molto male in Casa Lazio e vi ho chiesto voi che cosa avete intenzione di fare, rinnovare l'abbonamento o disertare lo stadio? Molti di voi mi hanno risposto, alcuni giustamente mi hanno chiesto e tu Vittorio che cosa farai con l'abbonamento? Beh, quindi faccio questo video un po' diverso dal solito per rispondere alla vostra domanda e dirvi cosa farò io per l'abbonamento quest'anno bisogna dire una cosa importante ognuno di noi ha una storia diversa ognuno di noi viene da abitudini, tradizioni, usanze diverse e quindi ognuno interpreta la situazione in modo diverso io mi ricordo mio padre mi portava ogni tanto a vedere a Lazio lui era abbonato in Tribuna Tevere e ogni tanto quando ero piccolo mi portava allo stadio quando ho avuto l'occasione, quando facevo il liceo mi sono abbonato in Curva Nord insieme a un altro compagno di classe, uno dei pochi della Lazio e sono stato abbonato in Curva Nord per 10 anni fino all'anno dello scudetto di Svengoren Eriksson l'anno dopo mi sono trasferito all'estero e quindi con il trasferimento all'estero ho detto addio all'abbonamento e per tanti anni, per 20 anni io sono stato lontano da Roma e per 20 anni non ho potuto fare l'abbonamento uno dei motivi, a un certo punto ho avuto l'occasione di tornare in Italia perché sono stato a lungo all'estero avevo due opzioni, Milano o Roma a Milano l'ho già vissuto e mi ero trovato molto bene Roma è casa mia, sono nato e cresciuto a Roma uno dei motivi per cui dopo 20 anni di assenza ho scelto di tornare a Roma sicuramente per tornare a stare vicino ai miei che erano anziani sicuramente anche per pensare alla mia famiglia ma anche perché mi mancava lo stadio avevo voglia di tornare allo stadio e vedere la Lazio e quindi sono tornato a Roma con l'idea di rifarmi l'abbonamento alla Lazio primo anno con il Covid non è stato possibile l'anno successivo la Lazio non ha aperto la campagna abbonamenti ma io ho comprato i biglietti per ogni singola partita quando finalmente la Lazio ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti io mi sono abbonato e devo dire che andare allo stadio con i propri figli è una delle gioie più grandi per un tifoso devo dire che vedere la partita con i miei figli è sicuramente una cosa fantastica un ricordo bellissimo che avrò io e che avranno anche loro di noi insieme è bello la domenica anche se di solito capita anche il sabato o addirittura il venerdì andare con i figli allo stadio magari andare fuori prendere qualcosa da bere prima di andare alla partita poi andare allo stadio eccetera eccetera è una cosa per un papà tifoso bellissimo e anche qualcuno di voi mi ha scritto io mi sono abbonato ho fatto l'abbonamento anche ai miei figli perché mi piace andare allo stadio con loro ecco è una cosa che per un padre è sicuramente particolare un bellissimo momento insieme ma non faccio l'abbonamento solo perché ci vado con i miei figli io rinnoverò l'abbonamento non perché me l'ha detto la curva nord perché loro ovviamente propongono le cose però ognuno deve essere libero e indipendente di prendere la propria decisione e io non critico chi non farà l'abbonamento perché la lazialità è una fede che ognuno vive in modo differente c'è quello che sente il bisogno di andare allo stadio c'è quello che invece è convinto che se va allo stadio la Lazio perde e quindi non ci va per questo c'è chi soffre troppo allo stadio e quindi non riesce a andarci perché rischia di avere un infarto o chi per vari motivi la vede in giro in macchina o chi ha difficoltà o problemi ad andare allo stadio ognuno vive la lazialità in modo diverso e questi personaggi che provano a dare patente di lazialità sono proprio l'emblema dell'errore del tifoso ognuno vive la lazialità come crede chi non vuole andare allo stadio perché non gli piace o per altri motivi è liberissimo di farlo io non vi sto dicendo che dovete fare come me io vi sto dicendo io faccio così per i miei trascorsi per la mia idea ma non criticherò mai chi non va allo stadio ovvio ci sono partite importanti penso a Lazio-Bayern ma penso al derby eccetera partite dove il laziale se ha le possibilità economiche se vive a Roma se non ha problemi deve cercare di andare allo stadio però in generale l'abbonamento è uno sforzo economico importante e alcuni non se la sentono per cui rispetto tutti io l'abbonamento me lo farò farò l'abbonamento anche ai miei figli vi dico che onestamente non l'ho fatto ancora solo per un motivo il motivo è che voglio cambiare posto sostanzialmente molti di voi che mi seguono da tempo lo sanno sono nei distinti nord-est non ho un posto bellissimo vorrei visto soprattutto visto che in pochi stanno facendo l'abbonamento cambiare posto dal 17 se non mi sbaglio noi vecchi abbonati avremmo due giorni per rinnovare l'abbonamento cambiando con i posti disponibili e quindi io mi abbonerò il 17-18 quando potrò cambiare posto ma io e la mia famiglia ci riabboneremo alla Lazio e non perché lo ha detto la Curva Nord e non perché voglio fare un favore allo tito e non perché do i soldi allo tito ripeto che gli abbonamenti come il merchandising eccetera eccetera i soldi al massimo vanno alla Lazio e non al signor Lotito che si è l'azionista di maggioranza ma non si intasca i soldi della Lazio i soldi di abbonamento i soldi di qualsiasi cosa che fate comprando materiale della Lazio o per la Lazio vanno alla società sportiva Lazio e non allo tito io non do i soldi allo tito do i soldi alla Lazio ma soprattutto vado allo stadio perché a me piace andare allo stadio soprattutto con i miei figli e per questo ho deciso che continuerò ad andare allo stadio anche perché la squadra ha bisogno di sostegno e i giocatori, l'allenatore non hanno responsabilità di questa situazione brutta in casa Lazio e quindi io andrò allo stadio per divertirmi principalmente anche se quest'anno sarà difficile per godermi del tempo con i miei figli e per sostenere la mia squadra del cuore spero in questo video di essere stato esauriente se avete altre domande sulla mia decisione di abbonamento siete liberi di scrivermi nei commenti e cercherò di rispondervi grazie ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti